Prendo, prendo, prendo tutta la negatività depositata, eh La tiro, 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 tiro fuori, eh E li mangio, la soffio via Tiro fuori, tiro fuori, tiro fuori E li mangio Tiro fuori, tiro fuori, tiro fuori, tiro fuori E li muoviono tranquillo, tranquillo, tranquillo Ehi, 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 ehi Abbiamo fatto tanto per togliere un po' di negatività ma ricomincio a pensare tranquillo 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 è rimasto ancora qualcos'altro è è rimasto ancora qualcos'altro è adesso la riempiamo di positività tranquillo con unmerato tranquillo 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 Sì, 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 sì. Ciao, come stai? Oggi faremo un prelievo dei pensieri un po' particolari testato già sulle altre piattaforme live dove, come sapete, sono presente faremo il prelievo dei pensieri con le dita luminose a tratti con la luce accesa della ring light, a tratti con la luce spenta per darvi il massimo del godimento per chi ama la luce soffusa o per chi ama proprio il buio durante l'uso di queste dita luminose quindi io adesso vi aiuterò ad alleggerire la mente dai pensieri brutti dalle negatività voi non dovete far altro che rilassarvi e, come al solito, fidarvi di me ok allora so che sei in un posto sicuro e tranquillo lontano dai rumori lontano dai fastidi lontano da tutto quello che ti può addormentare so, so, so bene che ti sei preso questo momento solo per te e hai fatto molto bene perché in questo momento noi possiamo andare ad agire sulle negatività restando concentrati ma allo stesso tempo rilassati nel silenzio possiamo abbandonare ogni forma di pensiero brutto per questo per questo non sarai da solo ma ci sarò io a liberarti dalle negatività e spero 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 veramente di riuscirci e ti ti comodo io inizio allora rovistando un po' nella tua mente rovistando un po' della tua mente nella tua mente scusami inizio a vedere un po' di pensieri i cubi e tiriamoli fuori li prendo, li prendo, li prendo stavolta no, non li disintegro li mangio no un po' di pensieri brutti ecco un altro qui lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo lo prendo, lo prendo buono, sarà anche brutto ma è buono vedo, 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 vedo un altro pensiero vedo, 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 vedo un altro pensiero tutto sommato tutto sommato anche questo era buono poi 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 ecco qua la paura la paura la paura paura cosa ci fai nella testa del mio amico eh non ci devi stare abbiamo tolto anche la paura fammi vedere un attimino ecco qua togliamo la rabbia un sapore un po' amaro però buono dai prendo, prendo, prendo tutte le negatività le tiro, tiro, tiro fuori eh le mangio prendo, 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 prendo prendo, 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 prendo tutte le negatività le tiro fuori eh le mangio prendo, 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 prendo fuori tutte le negatività le mangio prendo tutti pensieri brutti tutti pensieri negativi e li mangio li tiro fuori e li mangio 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 adesso e adesso continueremo a luci spenta ok? per darti ancora più la sensazione di luce che arriva ok? ok? con i pensieri brutti con i pensieri brutti tiro, tiro, tiro fuori tiro, tiro, tiro fuori ogni tipo di tristezza posso anche buttarli via, eh? questi pensieri visto che ormai sono sazi e li prendo e li prendo e li butto e li prendo e li prendo e li butto e li prendo e li prendo e li butto e li butto e li prendo e li prendo li prendo prendo tutto quello che ti ha addormentato in questo tempo tutta questa estate prendo, prendo, prendo tutta la negatività depositata la tiro, 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 tiro fuori la soffio via prendo ogni briciolo di amarezza, 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 amarezza prendo ogni briciolo, 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 briciolo di sconforto, di sconforto, di sconforto e lo butto via prendo, 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 prendo tutto quello che non ci piace e lo butto via adesso così come ti ho tolto i pensieri brutti adesso proverò ad inserirti un po' di positività ok? abbiamo riacceso la luce positività per te te ne auguro e te ne passo tanta tanta ti metto i buoni propositi tutti i pensieri belli tanta positività per farti stare meglio abbiamo svuotato la mente dai pensieri tristi e bui adesso la riempiamo di positività qui penetra qui non asimol non pot ma non non ne non 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 come ti senti? va un po' meglio? va meglio? più leggero? mi fa piacere? si tranquillo 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 abbiamo fatto tanto per togliere un po' di negatività ma ricomincio a pensare tranquillo 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 tranqui 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 è rimasto ancora qualcos'altro eh? è rimasto ancora qualcos'altro eh? è rimasto ancora qualcos'altro eh? ok inserisco ancora un altro po' di positività di pensieri belli e poi il mio compito qui sarà terminato tanti buoni propositi per te tante belle aspettative per te tante belle vittorie per te tutto ciò che di più bello c'è per te tanta 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 energia tanta 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 esuberanza tanta 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 forza tanta 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 determinazione e così starai, 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 starai meglio grazie per esserti fidato di me e se ti è piaciuto questo video non ti resta che lasciarmi un like condividerlo con chi ama l'ASMR lasciarmi un commento e di iscriverti al canale per supportarmi e sostenermi ci vediamo in un prossimo video rilassante tua Mary Jane ciao